Cos'è, cos'era e cosa sarà la candelora? Raida ha acceso i riflettori in vista dell'appuntamento di domenica a Montevergine. Sono attisi in migliaia da tutta la campagna in vetta al Monte Partenio. L'antropologo, il parroco, il sindaco nel dialogo a più voci nel corso della puntata sono emersi aspetti sconosciuti e più attraverso i ragionamenti. Lo spirito cristiano della festa, simbolo della luce e l'icona della Madonna da millenni, richiamano pellegrini. I monaci erano soliti acquistare grandi quantità di candele per regalarle o ricavarne offerte per i meno abbienti. Sul versante sociale, il legame col mondo trans e omosessuale, le cronache monastiche testimoniano sin dal 1600 presenze di persone travestite che facevano visita al santuario. Certo, dal 2002 il fenomeno ha preso maggior vigore, ma cosa accadde quell'anno? Come andò la cosiddetta cacciata dei femminielli? I testimoni, tra cui Marcello Collasurdo e Don Vitaliano della Sala, hanno aperto lo scrigno dei ricordi. Il primo, rivolgendosi all'abate Nazaro, ricordò lui che la preghiera può avvenire anche attraverso il canto e la tamorra. Don Vitaliano, reduce dal primo pride a cui partecipò come sacerdote, riferisce di un abate su cui erano montate pressioni all'interno della chiesa, ma che in fondo si trattò di una incomprensione poi superata. E da Montevergine in effetti partì una rivoluzione civile che molti frutti ha portato nel campo dei diritti, tanto da far dire allo stesso parroco Baricaderos che oggi è arrivato il momento di spettacolarizzare meno e che la chiesa con Papa Francesco ha spalancato le sue porte. Nell'intervista un signore ha detto, questa è una delle poche feste campane e spontanee. Cioè Montevergine attualmente per tutto questo grande movimento e per quello che sta rappresentando all'interno come dire di un'area, di un'area diciamo di creazione, di un'area come dire anche sociale, di un'area culturale di persone. Oggi è il grande sogno di uno spazio, perciò in qualche modo non è di ospedaletto, non è di mercogliano, è trans amministrativa, è trans territoriale, è il grande sogno di uno spazio in cui esibissi. Abbiamo previsto, vista la giornata festiva, la domenica e soprattutto le condizioni climatiche ottimali dei prossimi giorni, circa 4.000 persone che scaleranno dal Monte Sacro.